Ancora un caso di scabbia ad Arezzo ad essere colpita, in questo caso una persona ospite di una struttura per anziani a retina. La persona è stata immediatamente sottoposta alle cure del caso. Nelle comunità chiuse è possibile che questi casi si verifichino in quanto la scabbia è una malattia parassitaria, una malattia della pelle che si trasmette per contatto pelle a pelle fra la persona infetta e gli altri. Naturalmente sono scattate immediatamente tutte le precauzioni del caso e quindi riteniamo che la situazione sia sotto controllo. Un anno e mezzo fa si era verificato un caso di scabbia all'asilo di Subbiano. Lo scorso aprile ancora un episodio tra i bambini di un'altra scuola dell'infanzia retina e qualche giorno dopo tre casi tra gli operatori sanitari dell'ospedale Sandonato di Arezzo. A contagiarli fu ricoverato del pronto soccorso. Si tratta comunque di una patologia indubbiamente fastidiosa ma né grave né allarmante. In pratica come si fa a rendersi conto di avere la scabbia? Il sintomo guida è il prurito. Un prurito intenso è quello che comporta maggior fastidio, che si avverte soprattutto la notte e i segni obiettivi che si possono riscontrare sono degli arrossamenti, degli eritemi e i cosiddetti cunicoli. Per fortuna si cura facilmente, si cura con prodotti da applicare localmente. Per cui ecco, è un problema ma di facile soluzione. Grazie Grazie Grazie